Per chi si vuole fare un po' di tempo? Bene, a lei, a lei, a lei. Quei buonanotte. E guarda lei, ragazzi. Come ha? Buonanotte. E nei voi, come nelle erbe, convivono due opposti sovraniani. ...e secondo uno che schiacciasse le facciole è insultando che tu... ...von d'alegare! Una torcia! ...Gregorio, insulti, non li ingozziamo! Certo che non! La terra che ho detto tutte le mie speranze, questa sola! ...al primo di agosto? Poco più di due settimane! ...e di nuovo qui! ...sì! Non è vero, Giulietta! Quella dà! Comunità di colomba, stai nello stormo di colomba! Andiamo! È inutile cercare chi non ti lascia trovare! ...e di nuovo! 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 ...e di nuovo!